Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars, arriviamo a 1000 like, condividete il video e scrivete a canale di essere nuovi, lascio il hashtag Brawl Stars qua sotto nei momenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Oggi andremo a parlare di quanti effettivi verdoni si possono guadagnare totalmente gratuitamente all'interno di questo evento se non ci sono dei cambiamenti o delle aggiunte nei prossimi periodi. Quindi questo dovrebbe essere il valore massimo che potete ottenere gratuitamente di verdoni. Quindi in base a questo potremo anche regolarci quante possibilità abbiamo di riuscire a prendere tutte e tre le skin principali nuove che si prendono con l'offerta. Ok? Mi varrà la pena? Bisogna aspettare l'offerta e bisogna acquistare altri verdoni per forza per poter prendere tutto? Ve lo dirò tra poco, ma prima andiamo a prenderci intanto tutta la roba gratuita di oggi, perché pure Mordoghino se vuole prendere tutto il gratuito possibile, come sempre lo sapete ragazzi, non sono un grandissimo scioppone e lo faccio solo quando ne necessita una minima. Allora andiamo ovviamente anche a vedere le missioni che abbiamo oggi da fare. Ovviamente sopravvivenza in 3A, caccia di meduse, le altre dove stanno? Ok, una sta su KO5V5 e una sta su rapina. Va bene, andiamocela a fare tutte. E andiamo con il nostro topastro che è il più basso, così giochiamo, dovremmo giocare più o meno con livelli più bassini, dovrebbe essere un po' più facile, ma vediamo eh, non è detto. Poi troviamo gente OP, rottissima, tipo questa best hands, e morta immediata, poverina. Ok, bam, doppia kill. Eh, non ho presi già 5, non ho presi già 6 medò, ma lontano sinceramente, così questi 6 li recuperiamo. Vai, recuperiamoli e poi prendiamo questo. Ok, perfect, già siamo 8 ragazzi, già ci sta andando molto bene. Non so per cui quel topastro ho preso questa scelta tattica molto sbagliata sinceramente. Bra, questo lo eliminiamo, ci freghiamo la sua medusina e ci allontaniamo. Eh, Andrew, però così ti fai fregare, te lo dico. Vai così, bravo Andrew. Perfetto. L'abbiamo recuperato è già 11. Eh, questo mi piglia, ma do. Eh sì, quello muore, subito, subito. Alla grande proprio. Eh, io penso alle meduse sti cavoli. Ah, proprio. Volevi, guardalo che fascia, guardalo. Eh, voilà, bra, questo lo elimino, non è vero. Sopravvive, non so come. Ah, ammazza, che scudone. Ma come fa ad avere tutto sto scudo? Ah, è impazzito. Niente, vabbè, l'ho distratto. L'ho distratto, ma io ci muoiono. Eh sì, molto probabile. Eccolo, eccolo che arriva. Eh, qualche colpo glielo ha tirato. Eh, però me la me sa che more. Eh, me la sopravvive? Tanta roba. Stiamo in vantaggio di poco. Dobbiamo essere molto più attivi qua. Vai così. Ok, io direi che faccio una bella cosa. Me do. Ciao, ne. Arrivederci e grazie. Portate a casa alla grande. Voilà. 26 a 9. Ovviamente, ragazzi, come al solito, vi metto solo le vinte per non farvi 10.000 partite. Ho partecipato anche, penso, con qualcuno di voi italiano. Che prima mi sembra di aver visto anche qualche italianos. Quindi non vi preoccupate. Siamo belli carichi. Vediamo un po' cosa ci possiamo inventare. Vedo tre nemici. Il nostro non so dove è andato a finire. Ok, uno già l'abbiamo eliminato. Dove vai? No, vabbè. Il mio topo è stupido. Mi è andato al centro. Ok. Tranquilmente ce la stiamo facendo. Va bene. Questo lo eliminiamo. Ciao, ne. Vedo degli altri qua giù che potrebbero darci dei grossi problemi. No. Ma sta, aiuto. Sono morto io, ma sta. Fermate che mi sono salvato con non so quale fortuna. Vabbè, questo senza power up è che attacca il mio compagno. Alleato sconfitto. Un alleato è sconfitto, no? O tutti e due. L'altro alleato mio sta là. Vabbè, questo lo elimino subito. Ciao, ne. Ok. Mi vado a cura da lui. Siamo dei 14, eh. Stiamo andando discretamente bene. Noi siamo in tre. Abbiamo doppia cura addirittura. Ok. Uno l'ha eliminato. E mo' tocca eliminare quest'arto, però. Ok. Ha rinato pure l'altro, però. Che scatole. Dai. Oh, alleluia. E andiamo a farci sta 5v5. Vediamo un po'. Ovviamente KO. Vediamo dove ci porta. Vedo già gente con dei buoni bonus. Qualcuno qui. Se la scioppa alla grande. Ok. Non sono sicuro di riuscire a fare un buon lavoro. Perché io non ho bonus, ragazzi. Come sapete. Oh, con lo muore, sicuro? Eh, stavo a morire pure io. C'è mancato un pelo. Guarda che vuole attaccare a me. Ah, ah. Invece. Sei rimasto fregato. Hai mirato a quello sbagliato. Ok. Una kill l'abbiamo portata a casa. Dobbiamo trovare l'ultimo. Che c'ha pure lo stealth, il maledetto. Quindi. Potrebbe non farci tutti, però potrebbe farci veramente del male. Ok. Non lo troviamo. Chissà dove si è nascosto il maledetto. Niente. Eh, hai visto? Sta là. È un gigantone perché è rimasto solo lui. Bra. Ole. Andiamo ad attaccarlo pesante. Ok. Non si è arreso, ragazzi. Ma i nostri. Ma perché state fermi? Dai. Ma che state facendo? Ragazzi, stanno fermi. Dai. No, ho trovato i random che fanno i simpatici. Questo si fa ammazza apposta. Guardalo, eh. Adi. Ma perché state fermi? Cosa? Uccidetelo. Ma siamo seri? Se riuscire a fare questa cosa? Non ci credo. Potremmo vincerla. Possiamo ancora vincerla se... Se Mandy ci mira. Ok. Tiragliela, super. Niente. Non gliela dire, eh. Tiragliela. Niente. Vuole farci morire. Ok. Ce l'ha fatta. Poteva tirarla già un'ora fa. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a... Eh. 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 Ok. Quello l'ho quasi eliminato. Eh, però non è morta. Maledetta. Sta più raggio di me. Eh, si è pure potenziata. Porca miseria. Mo. Che gli dico? Bam. L'ha uccito. Ecco che gli dico. Ok. Eh, però devo levarmela trasformazione se voglio fargli qualcosa. Quello. Ok. Uh. Preso, preso, preso. No, è troppo grosso. Ma è rimasto lui da solo. Eh, sì. Bam. Portato a casa. E andiamo a farci una bella rapina col topino. Ovviamente sempre perché c'è il bonus da portarsi a casa, raga, eh. Hm? Forse abbiamo colpito qualcuno. Sì. Allora, voglio andare di lato. Per infastidirli in maniera concreta, se ci riesco. Ok, vedo che non ci stiamo riuscendo molto bene. Allora, vediamo un po'. Eh. Guardali, guardali. Allora, non lo piglio. Non lo piglio. Oh, ma... Ma uno dei miei colpi che rimbalza non prende? Ma com'è? Ok. Uno l'ha colpito. Li sto mantenendo molto in difesa loro. Però mi serve anche un po' di avanzamento qua. Non posso avanzare solo io, raga, eh. Non ce la posso fare ad avanzare solo. Eh, mi hanno ucciso. Ok, cavallino ha fatto l'uccisione. Diciamo che io una possibilità d'azione ce l'ho. Ma devo riuscire a passare in avanti. C'è un po'. Eccolo. Ok, posso riuscire. Posso, posso, posso. Sì che posso. Possiamo? Sì che possiamo. Olè. Ok. Cerco di dargli fastidio senza morire io. Diciamo un po'. Lui non mi colpisce, assolutamente. Voilà. Questo l'uccido. E vado subito sul cassaforte. E uccido anche lui. Ok. Tanta roba. Eh, mi sono ritrasformato ma non ho fatto al tempo. Mannaggia l'emoji. Ok. Dai che la possiamo vincere, eh. Siamo pronti? Aggressivissimi. Bra. Addio Spike. Addio. Addio Spike. Olè. Diciamo un po' se riusciamo a... Eccolo qua. Va bene, quasi ucciso. È sopravvissuto con pochissima vita. Posso ancora infastidire. Bra. Ok. Aspetto che questo recupera leva scudo. E vado diretto. Bra. Mamma mia. Eh, niente. Sono morto. Hanno fregato, eh. Si sono messi belli di punta. Ok. Ce la possiamo fare ancora, però, eh. Ancora siamo a cavallo. A cavallo è una parola grossa, però, insomma. Qualche cosa possiamo fare, eh. Ok. Questo lo riesco a prendere due o tre volte anche con i sassolini. Olè. Mannaggia le moggi se sono riattivate. Porca miseria. Ok. Non arrivo, penso, alla cassaforte da qua. Perché ovviamente non ha sufficiente raggio. Però posso fare questo. Bam. Ok. Posso ucciderla? Sì. Vai, così. Ok. Tiriamo tutti i colpi che posso. L'ho abbassato un altro pochino. Dai, che ce la possiamo fare. Dobbiamo solo difendere. Bella battaglia, dai. Ci è piaciuta. Complimenti. Portate a casa. Ragazzi, star drop epica. Vai. Apriamo e vediamo un po' cosa esce. Skin nuova. Ok. Grey Detective dei film noir. Allora ragazzi, andiamo a noi. Quanti verdoni totali possiamo prendere gratuiti? Andiamola a vedere insieme. Come ottenere i verdoni? 400 al giorno. 100 verdoni per modalità con modificatore. 4.600 totali con gli stipendi gratuiti giornalieri, che già li vediamo sempre nel negozio. 1.500 verdoni gratuiti dalla sfida di John Cena, che avrà vite limitate, quindi non potete perderla. Quindi 1.500 sono garantiti. E 10 per offerta che andate a grattare. Quando andate ad aprire le offerte ogni due giorni, vi dà 10 di quei cosini. Io ne ho persi 40, perché le prime offerte non le ho aperte. Non ero a casa, quindi non le ho potute fare. Quindi, totali, quanti ne possiamo prendere? La bellezza di 18.000 verdoni. Questi 18.000 verdoni ovviamente basteranno per le nostre offerte. Ovviamente, come avete visto, la super offerta, in questo caso bassa, del 10%, mi ha portato 8.500. Quindi già posso prendere una skin. Potrei prenderne un'altra al massimo. Quindi bisogna aspettare le offerte e probabilmente non riuscirete con solo quelle gratis a prendere tutte e tre le skin, almeno che non vi capita quella proprio fortunata, gratuita. Quindi vi consiglio di aspettare. Quando arrivate con offerta decente, magari 5.000, 4.000 punti, ve ne prendete una. E aspettate di nuovo. Se non dovesse farcela, secondo me, almeno quelli lì con le gemme li dovete prendere. Perché tanto le gemme le prendete nei pass e sicuramente ne avete da parte. Infatti, anche per dare un pochino di aiuto al club, io mi andrò a prendere insieme a voi adesso. Ovviamente, due di queste da 80, perché sono a 211. Con 240 se ne prendono tre di questi. Io per ora ne posso prendere due. E vado ad alzare anche la possibilità di prendere la nuova skin del primo più velocemente. Vai. Mi acquisto una seconda. E ora, quando arrivo ai prossimi 80, che ovviamente sarà con il pass, me ne prenderò probabilmente un altro po'. Quindi ne abbiamo la bellezza di 10.000, che non utilizzerò oggi, perché l'offerta non ne vale la pena. Ok? Quindi, contiamo di nuovo. 18.000 verdoni. Arriviamo a 1.000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale di essere nuovi, lasciate un hashtag Brostars con altri commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.